E certo ragazzi, questo è un nuovo video, oggi ragazzi sono qui per ringraziarvi dei 500 iscritti ragazzi, sono veramente contento venerdì o sabato, adesso di preciso, non mi ricordo, sono arrivato finalmente a 500 iscritti quando sono andato a controllare non ero arrivato a 500, a 501 iscritti in quel momento ero veramente contento, volevo realizzare questo video da tanti giorni lo volevo pubblicare proprio in quel momento però non ci sono riuscito lo sto pubblicando il giorno prima, quindi lunedì, lo vedrete questo video martedì e continuiamo così, tra qualche settimana mi attiveranno il community hub quindi riuscirò a interagire molto di più con voi iscritti, fare dei post, dei sondaggi e tante altre cose quindi ragazzi, grazie mille di cuore, adesso puntiamo verso i mille e ragazzi, preparatevi per qualche nuova sorpresa perché ne vedrete delle belle quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi di nuovo grazie per i 500 iscritti e ci vediamo al prossimo video, ciao e alla prossima